buongiorno sommessi complottisti del cup in esilio nella scorsa puntata ci siamo lasciati con la delegazione bulgara alle porte e oggi andiamo a vedere che sa da di ma in verità non hanno niente da dire loro sono i nostri che hanno da dire e in verità qua dice che una lobby abbastanza grossa supportata dai muhacirs che non so chi siano hanno studiato ci vengono a petizionare per dirci che forse dovremmo fare gli interessi dei turchi in bulgaria perché i loro interessi sono i nostri interessi vagliato le loro proposte praticamente quello che ci chiedono di chiedere e di dare autonomia alla traccia dell'ovest di implementare un delegato ottomano perché controlli che le cose siano rispettate e di mandare anche un ministro religioso che addestri gli imam bulgari ora se chiedete a me per quanto da fastidio a noi quando gli altri vengono a mettere il muso nella nostra nazione immaginatevi quanto può dar fastidio a un nemico e tu vai a chiedere una roba del genere e visto che secondo me dobbiamo essere lungimiranti e social liberali e non tenerci attaccati al vecchio odio che abbiamo verso i nostri nemici dire che questa cosa qua magari non la tiriamo neanche fuori e si parla di qualcos'altro magari qualcosa che non rompe le bolas e poi qui signori una bella giornata ad izmir giornata soleggiata vi dico solo che un amico del nostro mustafa che male gran vizier il wali di izmir è stato lo ha chiamato e fa viene a fare un incontro con la mia città a izmir e fai un bel discorso alla popolazione ci incontriamo ti vengo a trovare sito e quant'altro si è organizzato un viaggio per mustafa che male in questa città con una città greco turca fatto sta che è arrivata una telefonata dove si prospettava forse un assassino ai danni del gran vizier la cosa non era buona si è indagato salta fuori che era un falso allarme allora fa vengo settimana prossima perfetto settimana prossima si sta per partire altro allarme qualcuno vuole assassinare il gran vizier o mio dio no ferma tutto mandali le spie agenzia di sicurezza niente che questo era un falso allarme che male con le palle piene fa ma basta andiamo cioè che cojoni se no non si ci si muove più da qua e all'effettivo arrivano a izmir lì c'è l'uali gli da il benvenuto si ride si scherza si va sul palco parte il discorso partono due pistolate che raggiungono mustafa che male che cade a terra la gendarmeria corre in mezzo alla folla becca il tizio un giovane armeno che dice che voleva vendicarsi per il massacro armeno il genocidio e lo portano dentro e mustafa camal viene portato in ospedale ma la situazione non è certamente stabile e sapete come faccio sapere che non è certamente stabile perché se no non guadagneremo meno 30 stability che non so se proprio un guadagnare qua p***a naeva eccoci qui che bella vita che facciamo io direi che intanto è ora di spingere su anche l'armata ottomana signori il capo dell'OHF è stato sparato e noi non è che stiamo proprio parlando con i bulgari al momento stiamo più evitando di dire cose ma arriva la seconda proposta economica e qui ci si può trovare terreno comune secondo me qui si parla di un vecchio trattato che dove bulgari hanno sempre fatto istruzionismo alla fin fine ma adesso si può arrivare a un compromesso voglio dire il black monday il crash del mercato tedesco ha colpito sia noi che loro e siamo due mercati vicini confinanti in passato loro ritenevano che questo accordo giovasse solo a noi ma adesso comunque c'è margine anche per loro quindi io pretendo più o meno noi pretendiamo che questo accordo di scambio sia riportato alla commissione del danubio che praticamente è il nome della commissione che era stata data in tal senso non ci vedo niente di male bayar pascià assume il controllo dell'OHF intanto che mustafa è stato sparato immagino tecnicamente che mal non è morto ma qua si sta parlando di trovare un successore quindi bayar sarà solo un momentaneo poi si parla o di smet pascià oppure di ali fuat intanto tutti hanno tutti gli occhi puntati su che mal perché speriamo torni di gran carriera al comando dell'OHF è l'unico con una spina dorsale anche se noi siamo più propensi di andare un po più a sinistra un po più centro sinistra ecco questo è quello che è la risposta bulgara non si fa attendere ma qua si parla di un'alleanza di convenienza dicono forse un patto di non aggressione potrebbe diventare qualcosa di più così come i bulgari hanno dei nemici nei balcani gli ottomani hanno i loro nemici vogliamo parlare dell'egitto che si sta modernizzando dell'iran che sta risorgendo o di qualsiasi cosa verrà fuori dall'arabia là sotto quindi quest'idea è stata lanciata di una possibile non non aggressione ma di cooperazione dove ci aiuteremo rispettivamente nelle guerre per mantenere la stabilità questo ovviamente richiede un grosso sforzo per avere fiducia in queste persone qua e non solo pezzo di carta firmato io ragazzi è proprio qua che volevo arrivare da avere il culo coperto e degli alleati che possono dare una mano quindi offro questa cooperazione ma loro rifiutano la cooperazione la delegazione ci ha informato che non possono ragazzi noi non possiamo fare una cosa del genere ma visto che questo era solo un pur parlay non una richiesta ovviamente non affonderà le nostre negoziazioni va bene allora sfortunatamente è andata così fottetevi cosa vi devo dire dove sono le negoziazioni però ecco qua ecco qua il buff meno 4 per cento di consumer goods e target country trade cost meno 10 per cento quindi probabilmente hanno del ferro questi qua hanno alluminio quindi se se faremo degli aerei sapremo da chi andare e vabbè sappiamo a chi andare a comprarlo è morto mustafa kemal mustafa kemal ci lascia sul suo letto di di cose sono sto qua a leggervi tutto il mappazzone se volete fate pause quello che non si è non si è ripreso guerriero holy warrior e piangiamo tutti la morte del leone di antep mustafa kemal si ritira ma più che si ritira direi che è finita lì e intanto dall'altra parte vedi testa di caccio bulgara i problemi si vanno a creare con la formazione del belgrado pact abbiamo finito ha finito di parlare con noi il bulgaro e guardate un po che cosa succede nuvole oscure stanno ammassando sull'europa la serbia ha creato il belgrado pact la romania ha gioinato il belgrado pact grecia grecia vuoi fare qualche grecia perfetto grecia albania non mi ricordo l'albania entrava non lo so fatto sta che potevano avere un alleato in tutta sta faccenda ci hanno rifiutato ma noi intanto siamo contenti perché comunque il trade agreement l'abbiamo portato a casa e pensiamo agli affari nostri quindi in culo quello ora c'è da trovare un successore però per perché mal perché sono chi cavolo guida l'OHF mi ha messo mahmud khaleddin pasha cos'è che dà questo qua niente di che signore ci arriva la scelta tra i due candidati perché l'OHF si sta spezzando adesso che è morto la colla che li teneva assieme che mal abbiamo la scelta tra questi due alla fin fine non credo ci sia molta differenza ali fuat è più vuole modernizzare con una democrazia multilivello bla 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 alcuni dicono che questo qua è direttamente rivoluzione tradimento e altri invece vogliono stare con ismet pasha che ha più le idee di che mal questa roba qua per conto mio del tutto in influente adesso metto ali giusto per dar fastidio a qualcuno quando l'hanno l'ha cambiato quello che è ma non credo cambi proprio niente questa cosa qua questa direzione qua la retorica anti bulgara si intensifica ovviamente mi dà il cazzo perché non possiamo invadere la fin fine quello ce lo siamo giocato però un meno 4 per cento delle fabbriche non è brutto così per un territorio che probabilmente la western trage non ci avrebbe dato molto molto di che sono abbastanza contento loro intanto sono cazzi loro sembra comunque che alcuni dei nostri cittadini si stiano armando e i centri di reclutamento più e più di volontari per andare a riconquistare la traccia dell'ovest e prendiamo un war super 10 per cento e ci sono degli attacchi terroristici in queste traccia possiamo tradirli così bulgaria in guerra con la serbia e has not started però noi abbiamo accettato la missione bulgara quindi non possiamo tradirli col pedole la schiena c'è guarda il 12 per cento di war super che non ci arriviamo neanche però va bene senza fare niente intanto mi piace perché piene tedeschi che passano attraverso i nostri territori perché abbiamo la missione tedesca da noi possono fare un po' il cazzo che vogliono quindi tant'è posso giocare no non puoi giocare ok ok abbiamo finito questo cos'è che ci ah sì la lealtà nell'armata si sta dividendo ora che il partito lo hf è andato a prostitute sta succedendo qualcosa a quanto pare questo generale fevzi pasha era molto amico del gran visire di mustafa kemal e non sembra essere contentissimo della piga che sta prendendo la situazione quindi si sospetta ci possa essere un colpo di stato militare in questo senso ovviamente noi speriamo di no in america viene eletto alfi su succede qualcosa e poi c'è un conflitto in sulla sull'aia mai nia 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 vabbè dai in un posto dove a quanto pare le solite menate delle rivolte perdiamo stability però li guadagniamo cioè abbassiamo l'arrest stanno combattendo fra di loro e la loro divisione fa sì che noi riusciamo a situarli un po meglio allora più 25 per cento land doctrine o military factory in più vai così un po di military factories in più non fanno mai male sembra che il nostro fevzi faccia la mossa e annunci le sue ambizioni e si candidi per entrare in politica sembra che sul letto di morta è lo stesso che ma gli abbia detto prendi in comando vai avanti quella parola già tanto che non l'ha fatto con un colpo di stato sto tizio qua la cosa semplicemente noi ragazzi per andare verso sinistra gli diciamo che fevzi fallisce il voto e nessuno se lo incula di striscio questo ci porterà intanto la spagna è caduta nell'anarchia questo ci porterà alle elezioni dove finalmente andremo dove vogliamo andare guardate qua solito questo qua è troppo evergreen è bellissimo in qualsiasi modo c'è questa guerra a tre o a quattro che c'è lì in cina possiamo perdere la cina non guardiamola neanche che è orribile la bulgaria sento che suda e trasuda paura per il futuro è il momento che tanto aspettavo è finalmente arrivato le elezioni del 36 con la morte poverino di mustafa camale il gran vizier e l'hf che si spacca il sultano abdul mesid secondo è costretto a chiedere di nuovo le elezioni e sembra che finalmente l'intesa liberale riprende la maggioranza in mano anche se alcuni sospettano che ci saranno delle sorprese in futuro l'hf diventa il partito che comanda il social liberismo sale al 30 per cento si lo hf intanto si prende se lo prende lo prende in quel posto lì signori allora io sono andato per i cammelli del deserto perché sono bellissimi sono bellissimi intanto qua si è aperto un nuovo path per noi che dovrebbe andare non lo so sistemarsi perché quelle robe qua le avevamo già fatte quindi quello che è esattamente abbiamo perso però le spie fighe non abbiamo più le spie fighe non abbiamo più quindi cosa fanno me le hanno tolte un attimino io due ce le avevi e tattacchi ora me le tengo perfetto certo di culo allora il pat il patto il pat il focus qua che abbiamo con loro è abbastanza carino perché è abbastanza economico e di sinistra tra virgolette ci dà la ricerca mettiamo free trade che a me non è che piace tantissimo ma tanto noi non abbiamo niente che ci interessi cioè abbiamo un sacco di cromo quindi meglio meglio buttarlo fuori mi pare che cambi anche questo non mi piace per niente però va bene non c'era anche la coscrizione forse da cambiare a qualche parte I don't such fatto sta che ora c'è bisogno di un nuovo gran vizier e noi potremmo scegliere fra il gran vizier sabhatin o il gran vizier arslan arslan è ve lo dico subito quello che va per il vecchio di califate of the old no noi vogliamo andare per invece per la sublime federation per andare per la federazione ora se non ricordo male no probabilmente bisogna aspettare ancora che venga eletto il nuovo gran vizier faccio sta ragazzi che stiamo andando ora siamo arancio guardate qua come andano gli arancioni con un 47% che non è proprio una maggioranza per un caccio però magari in coalizione con il df che ne dite Kazim Karabakhir ritorna dall'armenia ah faceva l'uali in armenia dal 35 ed era un brigadier generale che ha combattuto nella prima guerra mondiale Kazim Karabakhir Pasha è ritornato nella capitale e vuole andare col df ah buon per lui market liberty guarda nel 2% spero non lo mangi da noi il 2% no non l'ha mangiato da noi si sta riaccendendo di nuovo il dibattito politico qua il collasso dell'economia del golfo del persico a noi ci frega un pochino perché Basra scende di arrest ma il Qatar Abu Dhabi ah questa parte qua ovviamente lo prende in quel posto e io non ne voglio la sfortuna di un uomo è la fortuna di un altro non sto lì a leggere tutti questi cazzo di venti sono eterni se no ci mettiamo un mese ragazzi io voglio il camel corpse e spammarlo tantissimo sembra che il principe Sabahattin che è uno dei due possibili gran viziere sia riuscito a mettere insieme una coalizione per opporsi ai centralisti con un programma che si concentra su decentralizzare andare per una federazione quello che vogliamo noi molte minoranze arabe supportano questa cosa qua fatto sta che i conservatori continuano a opporsi e cercare di spingere per il programma dell'OHF e invece vi è attaccata questa ceppa di cazzo perché il social vabbè tutti e due guadagnano punti ma un po' di più il social conservativismo non mi viene conservativismo conservatismo conservatismo probabilmente spingiamo per il nostro 47% abbiamo perso un 2% da quella roba lì per piacere Sabahattin fai la svelta ad arrivare perché sennò siamo nella merda oh democrazia di l'italiano oh 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 finalmente allora in Italia sono posso chiuderlo? grazie in Italia sono affari loro il sultano dà la carica di gran viziere a Sabahattin molti si chiedevano cosa stesse succedendo fra le mura di palazzo e dopo una dura discussione con tutti i candidati e con i consiglieri il sultano oggi è dichiarato che sono suo figlio il principe Sabahattin poi non so se è suo figlio però il principe immagino sia comunque un suo parente stretto bene finalmente e abbiamo delle nuove decisioni come se non ne avessimo già abbastanza oh ragazzi adesso qua arriva tutto il sistema di camera dei deputati e quant'altro non c'ho mai non lo so non lo so mai cagato comunque l'OHF è ancora una bella maggioranza qua dentro noi abbiamo vinto il voto ma poi alla fin fine siamo in minoranza se facciamo una coalizione con i DF e vedo che qua c'è l'opzione arriviamo comunque 80 che non è un cazzo quindi dobbiamo guadagnare seggi come si fa a guadagnare i seggi lo scoprirò vivendo immagino perché qui poi mi pare di aver letto infatti che siccome siamo in minoranza abbiamo solo 124 deputati ma siccome siamo meno di 124 deputati abbiamo solo 109 ci dà anche qui debuffi quindi per andare avanti da quella parte qua mi serve di guadagnare supporto in la camera di deputati vacca puttana parliament support forever i 20 deputati oh ok più supporto abbiamo più stability abbiamo più popolazione inclusiva abbiamo puttana questo è un bel buff che va un po' a contrastare questo debuff che è meno 38 ma ragazzi tento di capire di destreggiarmi fra queste cose perché comunque non siamo proprio messi benissimo no allora porto nuove non so se sono buone la Bulgaria l'ho preso in quel posto che poi sei contento Bulgaria di aver fatto la cazzata noi stiamo cooperando ma non è che ti durerà tanto quella situa lì ho finito i camel corps che fatemi andare a vedere è bellissimo è bellissimo li adoro i cammelli sono l'unità più bella che c'è eh ma non puoi modificarla perché quello bah frega cazzi la destriamo non so neanche che buff fanno nel deserto dovrebbero essere fighi in momento più 3 ci attacco più 20 madonna le sfrutteremo in Egitto levati proprio quello che è dicevo ho scoperto che ci sono delle decisioni qui su Mappa tipo questo ci ha dato quando sarà rimosso ci darà più supporto al social liberismo con 4 fabbriche che usiamo un po' ha dato una mano a qualcuno e siamo arrivati a 139 deputati questo vuol dire e non mi parceranno altre opzioni così a Mappa per ora di quella cosa qua mi pare che con questi 139 possiamo finalmente fare di rinnovare il sublimport o la sublimporté sarà questa mania per il francese senza debuff e quindi ci becchiamo più 100 di political power che finalmente si manda in positivo e poi non so perché gainiamo l'opinion dell'ottoman empire cioè è what? va bene quello che è e dopo vedevo che c'è possibilità di intervenire nel medio oriente ma per ora ci mancano le persone e quindi sto guardando che anche di qua ci dà la possibilità di improvare l'ottoman gendarmerie che ci dà sempre più operative slot più uno e poi qui vedo che ci sono alcuni focus che ci fanno aumentare i deputati o diminuire i deputati alcune volte dipende dipende da quello che facciamo ovviamente fa incazzare alcuni alcune tipo questa qua di eguaglianza davanti alla legge fa incazzare i conservatori che loro vorrebbero no no giulmani davanti a tutto poi ci sarebbe anche però questo un research slot che è veramente figo e mi dà veramente fastidio non prenderlo puttana Eva quanto sarebbe bello quello un research slot però anche il political power per fare delle riforme non sarebbe oh abbiamo anche ah abbiamo anche questo che non ho letto eppure questo che non ho letto ah sono cambiati sono cambiati quelle altre cose ora possiamo cercare di portare la gente oh secondo me lo devo rileggere tutto da zero che palle per adesso io andrei col sublimpo no andrei con research slot prima abbiamo research slot meglio meglio è senza stare qua tanti eccola qua qual era la decisione sono spariti quelli dei via let's perché ormai stiamo andando per il federalismo ed è arrivato altra roba qua tipo questo qua che io non lo vedevo su mappa ma c'è qua fond le case del popolo praticamente ci dà authoritarian democracy guadagna punti e anche national populism guadagna punti ma i nazionalisti joinano un po' la nostra coalizione ah ok perdiamo un pochino supporto qui forse neanche eh beh però per guadagnare seggi gli inciuci eh gli inciucini qua guarda che belli gli inciucini se facciamo gli inciucini fatti bene si perde il 5% di stabilità e liberalismo ma 30 deputati arrivano da noi adesso mi leggo un po' gli inciucini e vediamo cosa dire e fare c'è stato comunicato che le forze americane hanno lasciato il moge johnny smarcinome quanto pare scoppiata la guerra civile americana e sono anche un po' cazzi loro ne il canada si è già inchiappettato il new england è stato veloce il canada inchiappettarsi il new england qua c'è cosa veloce faccia da pirla esatto e qua abbiamo alfi madonna mia alfi alfi sembra che non sia spaccata in 3 o in 4 l'america sto giro sia solo uno sforzo 2 forse il new england è stato già rilasciato è stato rilasciato social liberale wilbur lucius cross non ho idea dei path che abbia noi ovviamente prendiamo uno stabilito che i path che abbia il new england messo così ma tant'è ragazzi mi sono appena accorto che forse stiamo esagerando mi pare c'è che il supporto dei conservatori è leggero al meglio se la loro frazione diventa malcontenta cioè se il loro gruppo diventa malcontento potrebbero far collassare il governo e cercare di prendere il potere per se stessi io forse ho un po' esagerato con cercare di tirare acqua al mio mulino però qua ci abbiamo 86 persone all'opposizione che dovrei mettere su questi qua però chi cavolo voglia chi cavolo voglia non riesco a capire questi 105 da dove arrivano penso proprio eh non lo so ma dalle aree conservatrici me le divide proprio in aree così ok ho un po' esagerato nelle aree conservatrici a pushare con le mie riforme questo magari non lo premo questo testo qui magari non lo premo però dall'area araba quasi quasi una botticina perdiamo stability perdiamo popolarità noi a popolarità stiamo al 50% siamo arrivati giusto adesso ad avere la metà della sito no non voglio perdere aspetterò quello che sarà e gg ragazzi intanto stiamo rinnovando ancora sta cazzo di porta de porté che per la fin fine è un complesso di è un complesso di edifici che erano andati a fuoco nel 1911 dove ci stava mi sa i ministeri i vari ministeri mi pare sì è una costruzione centrale comunque rinnovarla rende tutti più fighi e poi mi sa che lascio perdere dall'andare avanti qua nel cioè lascio perdere sia su Blinport e scendere lì che scendere qua e inizio ad andare un pochino per le riforme del Gran Vizier sabattino perché dobbiamo svegliare più gente possibile dalla nostra parte non lo so mi sento che se abbiamo un partito forte e anche i conservatori tentano di fare capotto e di fare il colpo di stato se abbiamo la maggioranza riusciamo a schiacciarli e possiamo fregarcene di loro da lì in poi però non è detto è tutto da vedere e lo vedremo nella prossima puntata in questa abbiamo visto la morte di Kemal l'arrivo dell'HIF al potere i social liberali la Bulgaria ci ha fatto un dito medio e ora sta difendendo a fatica ma sta difendendo ha perso un pezzettino di terreno ma quello che è contro il patto di Belgrado l'America è esplosa solo in due pezzi se non contiamo quello e basta e la Spagna e la Spagna che ormai è rimasta la divisa fra Kingdom of Spain e il CNT5 nella prossima si vedrà quel che sarà un saluto alto là